Oggi viene celebrata questa festa dell'amicizia tra Italia e Romania ed è la prima volta che si festeggia qui a Catania, un evento sicuramente straordinario per questi immigrati che sono stati accolti dai siciliani. I rapporti tra l'Italia e la Romania sono dei rapporti meravigliosi, continuano ad incrementare un grande rapporto di amicizia ed è con gioia che quest'anno si festeggia a Catania la festa dell'amicizia tra il popolo italiano e il proprio rumeno. Come sarà articolata questa giornata di festa? È con grande gioia che continuiamo a dire che questa festa sarà una festa di popolo, ci saranno due artisti rumeni importanti che canteranno le canzoni della tradizione rumena e questo grande abbraccio di fratellanza tra Italia e Romania sarà stretto ancora di più oggi qua a Catania. Cos'è che unisce Italia e Romania? Le origini sono le stesse, le origini romane, la lingua rumena è una lingua neolatina, c'è un momento di fratellanza, poi tanti rumeni sono qua in Italia e tanti italiani sono in Romania che lavorano, qua sono nati tanti piccoli rumeni che vanno a scuola, si sono ben inseriti e anche in Romania parecchi imprenditori lavorano, gli scambi imprenditori rumeni che lavorano anche in Italia, ormai c'è un momento di fratellanza veramente eccezionale, di collaborazione tra i due popoli, è bellissimo. Qual è il messaggio che vuole dare ai rumeni che vivono qui a Catania in particolare? Il rispetto delle regole sia italiane sia siciliane, di lavorare bene, di inserirsi bene e di collaborare allo sviluppo economico della Sicilia.